Anna studiava per diventare veterinaria prima dello scoppio della guerra. I tedeschi erano a 30 chilometri da Parigi quando ricevette una lettera del padre. Era in buona salute, ma le implorava di non tornare in Belgio fino alla fine della guerra. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.